Sono molto contenta di aver vinto questo premio e anche perché è un premio istituito da Giancarlo Dosi, quindi una persona molto importante, molto attiva e sono contenta che la mia storia possa continuare ad essere raccontata attraverso il libro e anche attraverso il documentario. È uscito un documentario. Cosa bisognerebbe sapere in più riguardo questa storia? Che a volte scienza e giustizia non si capiscono e dobbiamo tutti fare uno sforzo per comprendere che questo è un linguaggio che sia la parte scientifica che la parte della giustizia devono imparare a usare meglio.